C'è sempre i due amici che si incontrano, ma sai che ti ha contato? C'è che cosa? C'è un anno che è convinto che è incavato. C'è un anno? C'è come un cavato? C'è incavato. C'è ma chi è bene a dire scusa che è convinto che è incavato? C'è che è bene a dire? C'è un anno Roma ha ditta, che è andata perate, c'era una muzzucuna, si mangia leva quando non lo buttava in villa. C'è ma per davvero? C'è una cosa strana. C'è ma scusa, mi ha buttato nel dottore e lo fate guarire. Oggi, chi facciamo guarire? Romani che c'è incavato questa castagna?